Allora, io dico, come si toglie la sete col prosciutto, come diciamo qui a Roma? Ecco, poi voglio sentire anche il perere di Angia su questo. Allora, io ho fatto il Green Pass, eccolo qui, ce l'ho qui davanti, se lo volete vedere, eccolo qua. Adesso è attivo, scansionare codice QR, c'è il mio nome, cognome, eccetera. E questo mi scade praticamente dopo 48 ore, quindi mi scadrà domattina perché l'ho fatto ieri mattina. Perché tu hai fatto il tampone e questo è quello che vale 48 ore. Tampone, ho fatto il tampone, 48 ore, Ministero della Salute, certificazione valida 48 ore dal prelievo che è, adesso qui purtroppo non si agge perché è piccolino, ma comunque lasciamolo così anche perché a me non interessa, io non ho problemi di privacy. Comunque è scritto qua sotto, l'hai lasciato al Ministero della Salute, è scritto ecco qui, valido 48 ore e la data è, eccola qua, è di ieri, ore 12 e 15. Quindi, ovviamente per continuare la validità di questo aggeggio, io domani mattina dovrei fare un altro, poi fra quattro giorni un altro, eccetera, eccetera. Magari se tu sei, io lo sto facendo soltanto per una questione di sicurezza all'interno dei nostri locali di lavoro, visto che io voglio essere un po' più libero, almeno ho da mostrare il fatto che non sono negativo e per 48 ore, come dice le indicazioni, protocollo governativo. Se sei negativo ad un tampone, perché questi sono antigenici e anche molecolari, ho fatto questo molecolare, quindi dice se tu sei negativo, per 48 ore successive non puoi infettare nessuno. Quindi, ecco qua. Ora, la domanda che noi ci facciamo è questa, ecco Angelo, poi ti lascio la parola, perché te anche su questo argomento hai lavorato molto. Allora, io ho questo, sono sicuramente, ora, stiamo qui parlando, posso abbracciare te, preferisco lei, però vabbè, insomma, per scherzare, siamo qui anche a fare un po' di battute, ovviamente, ecco. Però possiamo abbracciarci, cioè, perché sicuramente, con certezza, io non sono infettivo, non posso essere infettivo nei confronti di nessuno, perché ho un tampone validato dal Ministero della Salute negativo, in data 9 agosto 2021, ore 12 e 10, non era 15, era 12 e 10. Quindi io fino a domani, alle 12 e 10, se non rifacessi un tampone, io sono assolutamente non infettivo, sia perché non lo sono realmente per motivi, diciamo, medici, che anche per la burocrazia. Quindi, quindi, che motivo c'è che io debba indossare una mascherina quando entro in un locale, per esempio? Cosa che io non faccio non entrandoci. Ma adesso, con questo in mano, io ci entro. E come se ci entro? E il primo che mi dice qualcosa, allora sì che lì succede un patatrack. Perché con questo in mano, io ho la certezza, lo metto qua, guarda, proprio aperto, a vista, io sono sicuramente non infettivo. E guarda, siccome io non ho questi problemi, ci metto pure il documento vicino, il mio documento, perché così deve fare scopa con quello che c'è scritto, no? Certo, chiaro. Benissimo. Non me lo devi chiedere, te lo faccio vedere proprio. Ma questo perché? Ora, i puristi diranno, eh, ma tutti abbassi. No, signori. Bisogna mostrare la fallacità di tutto il sistema. Io, quindi, mi troverò ad essere sicuramente sano, come sono ora. Sono sicuramente non infettivo, non sono un pericolo per la società. Posso girare tranquillamente, quindi senza alcun tipo di protezione, alcun tipo di cosa, perché sono sicuramente... Dice, eh, ma se tu lo fai potresti infettarti da qualcuno. Certo, ma sono problemi miei. Nel momento in cui io mi infetto, vorrà dire che quando andrò a fare il prossimo tampone sarò positivo e dovrò rimanere a casa in quarantena. E non continuo a non fare male a nessuno. Dice, ma tu fai male a te stesso. Beh, certo, ma io lo faccio anche quando mi accendo una sigaretta. Ma poi, Fabio, scusa, in teoria, no, se il pass fosse davvero per tutelare la salute, dentro un locale tutti hanno il pass, dovremmo essere tutti sani. Ma ciò non sarà, lo sappiamo, perché i vaccinati che passano contagiare non devono fare il tampone. Allora io mi chiedo, perché io... Io voglio stare vicino a gente che ha fatto il tampone a questo punto, visto che voi avete voluto questa buffonata. Allora, siate coerenti fino in fondo. Siccome io sono sicuramente sano, ok, entro in un locale... Io pretendo che tutti siano tamponati. Perché io devo essere messo a rischio da uno che si è vaccinato e magari mi può diffondere il virus perché non ha fatto il tampone. Cioè, questo è il punto. Che ne pensano i puristi della questione? Tamponi per tutti, ma anche gratuiti. Io sono anche disposta a pagare più tasse per fare i tamponi gratuiti a tutti, ma smettiamola con questa pagliacciata. Il punto, caro Fabio, è che qui lo scopo non è tutelare la salute, perché questa storia dei tamponi si sarebbe potuta fare benissimo già da un anno, un anno e mezzo, che noi potremmo fare dei tamponi, per esempio, a tappeto nelle scuole. Allora, perché tutto ciò non è stato fatto e l'unica cosa che è stata fatta è continuare a chiudere, a terrorizzare queste mascherine inutili? Perché bisognava evidentemente creare una situazione, voglio dire, collettiva, di pensiero collettivo, predisposta ad accettare quello che sta accadendo. Perché io invito veramente tutti ad essere molto lucidi in questo periodo, perché arrivano continuamente messaggi mistificanti che tendono anche a minare le sicurezze che magari ognuno di noi può aver avuto dopo essersi informato correttamente come può fare in questa radio. Allora, cioè, bisogna essere logici. Allora, se il pass non è stato fatto per tutelare la salute pubblica, in quanto chi ha il pass, tra il chi ha il pass ci sta, quelli tamponati che sono negativi, quelli vaccinati che possono essere negativi o positivi, quindi non si capisce che sicurezza io possa avere in un posto dove c'è gente che ha il pass ma non si sa se ha tamponato o no. Quindi questo pass a cosa serve? Il tampone è a pagamento, no? Quindi a cosa serve? Indurre il vaccino. E allora, allora il vaccino, allora il vaccino che cos'è? Non è un mezzo per combattere la pandemia, ma è un fine?